Saranno 14 gruppi che domenica prossima 10 giugno disputeranno il quarto torneo Borgo San Panfilo Memorial Luisa D'Agostini, torneo di musici sbandieratori a carattere nazionale organizzato da Borgo San Panfilo in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori, con il patrocinio del Comune di Sulmona e dell'Associazione Giostra Cavalleresca. Giunta ormai la quarta edizione la manifestazione presenterà novità rispetto al passato, quella principale riguarderà la fase mattutina nel quale le specialità di singolo tradizionale e coppia tradizionale, si svolgeranno nel corteo del Palazzo Vescovile, tornato a splendere dopo la recentissima opera di restauro. L'altra novità sarà l'introduzione della categoria Under-15 che invece aprirà i giochi pomeridiani che si terranno nella splendida cornice di Piazza Garibaldi, concludendosi con la specialità della piccola squadra. Prenderanno parte a torneo il Borgo San Panfilo, Sestiere di Porta Manaresca, Sestiere Porta Bonoveni di Sulmona, Sestiere Porta Solestà, Sestiere Sant'Emidio, Sestiere Porta Tufilla, Sestiere Piazza Rola, Sestiere Porta Romana, Sestiere Porta Maggiore di Ascoli Piceno, Torri Metelliane e Cittareggia di Cavale Tirreni, Gruppo Storico Città di Popoli, Sbandilatori e Musici Città di Bucchianico, Alfieri del Cardinale Borghese di Aterna in provincia di Roma. I gruppi saranno valutati da una giuria tecnica federale. In caso di maltempo di condizioni meteo avverse il torneo si svolgerà regolarmente all'interno della palestra Puloriuso Nicola Serafini nella zona dell'incoronata.